Questi sono 100 euro e se riesci in 60 secondi a portarmi una cialda di pecorino, 100 grammi di guanciale e le patatine con la crema di pecorino sono tuoi Da 30 secondi vai con la crema di pecorino, vai 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 Siamo sicuri siano 100 grammi di guanciale? 100 o 30? Devono essere 100, diminuiamo Vai 3 secondi Perfetto in un minuto, ma saranno veramente 100 grammi di guanciale? Verifichiamo se sono 100 grammi di guanciale 100 grammi, complimenti questi sono tuoi Grazie